Fra, ma meglio così, non ti preoccupare RECUASA! Oh, calma! Mo ti vengo a prendere Fra Tanto con la fortuna che hai te verrai quello senza mosse Mate, guarda qua, ti apri un lucky block Prima che inizi Leggendario! Come niente? Non è possibile Sarà uscito tipo un mob, robe strane Vabbè raga Comunque, oggi PIXEMON LUCKYBLOCK Di Charizard Shiny contro Charizard Caputops Ok, ragazzi io sto trovando le sue cose belle VIKTRIBELL Ok, fratellino, fai bravo però MAGNESON Io so già che stai facendo un casino madonna Quindi da abbassarti i rumori TS No, perché sennò si sente il ritorno dopo in cuffia Comunque, io non sto trovando assolutamente nulla Fra Cioè io per te in realtà un lupo Ho trovato un Nike Fra Marci quando torna Nike? Marci quando torna Nike? Oddio ma questo 65? Tanta roba Possiamo fare Possiamo utilizzare solo i Pokémon Di livello minore del 40 Minore del 40? No, adesso sto scherzando Facciamo solo sopra 60 Così, a parte che è sempre così Sì, in effetti No, va bene, a prossima Mate, ho trovato Graudon Oh, l'altro giorno di cosa abbiamo parlato Non trovo Graudon L'ho trovato E' morto Graudon Rip, grazie Graudon per aver partecipato alla Pixemon Sei stato molto speciale per noi Io ho trovato ancora un dopo Pokémon E io l'ho trovato l'altro ieri RECUASA! Beh, iniziamo raga, ho trovato un Eevee E lui trova un RECUASA Mi pare normale D'altronde Ricordati che in genere sei tu quello sculato Ma cosa dici? No, non c'è Ma è sparito il mio mare che sbatto Oddio Oh! Oh! Ho trovato Ok, iniziamo Te lo guardi in Replay Mod Sì, con la Replay di Fortnite Guarda che si givva ai Pokémon, raga Ma io non ho parole per questo Madomarmi che si givva ai Pokémon Eh, ma basta che guardi che c'era veramente e boh Lo accetto, va bene, lo accetto Sudo Vudo, che bello Bellissimo Forse sai che mi hai catturato Cosa? Ma io ho trovato un doppio Zebstrica Interessante Scusatemi, l'avevo catturato e me lo son givvato Quindi è nei due Vabbè, uno lo butto Vabbè, ci sta Ci sta Però secondo me Ma come ho? Ma basta trovare leggendari, Fra Ok, hai detto basta trovare leggendari Ho trovato un Darkrai 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 o Darkrai? Scegliti, Fra Perché ogni volta cambi di versione Darkrai ti ho sempre detto Eh, oggi è Darkrai allora No, oggi è Darkrai di essere No, Fra Non l'ha detto, raga L'ha detto In questo momento comparirà un sondaggio per dire quanto è brutta questa battuta di Marci Non ti dimenticherai Classico, come in Fortnite in casa Mi sono indicato alla fine Deoxys Oh, tanta roba Deoxys, Fra Deoxys Ti vengo a prendere adesso Ma veramente lui? Ti vengo a prendere Sì, ma gli orsi polari li aboliamo cosa in questa serie? Madò, che fastidio Vabbè, è un'altra piecola Mate, ho trovato Lunala Oddio, Lunala Non l'ha mai trovata tu, Lunala Lo sai? Mai trovato Non so cosa dovremmo fare una volta? Dovremmo fare la Team Rocket Challenge O che se esce Sti cavoli dobbiamo lasciarlo Così ci ruba tutti quanti po' Eh, anch'io sono in creativa Però dovremmo fare molto quanto in survival Sai, i miei primi video delle pixel attack Dovrei creare in survival E non sapevo nulla di Team Rocket E mi facevo rubare i Pokémon tranquillamente Proprio easy Comunque io sono a un buon punto Lugia Cioè, io trovo solo O e Darkrai come leggendari, eh? Cioè, ne parliamo un attimo Allora, comparirà un altro sondaggio Che deciderà Oddio Basta, ho queste battute Oh, i Dragon è 72 Interessante Comparirà un sondaggio per dire Chi ha ragione sulla pronuncia Cosa, ragazzi? Cos'hai trovato? Ho trovato proprio lui Cosa? Ma io vengo a aprire i tuoi lucky blocks Non me la catturà Non mi da craveder Cos'hai trovato? Eh, non me lo prendo Eh, non me lo prendo Dimi, cos'hai trovato? Eh, ah, Tornadus Easy Tornadus Fra Ma non me lo prende, mate Meglio così Ho trovato un ratatapigmeo Cosa vuoi in più? Oddio Ma che sbatta però È baggatissima sta cosa Fra Ma meglio così Non ti preoccupare Non è... RECUASA! Oh! Calma! Mo ti vengo a prendere, Fra Ma ti vengo a prendere No, tu l'hai trovato senza mosse Quante tipo agilità Ma se facciamo un attimo Chi il chioccio la è? Eh, sì dai Perché io sento soltanto mob fastidiosi In questo esatto Non mi uccidere quel pokemon è piccolissimo Ok, ok Ora posso settare lo spawn point E poi uccidermi, Fran Grazie L'ho apprezzata però questa morte Sai? L'ho apprezzata molto Quanti like blocchi mancano? Ok Ah, che libertà Vero che non c'è più quel casino Ah, Lucia Tanta roba è meglio Allo basso Oddio, un altro team rocket Basta Io leggendari non lo stai più trovando Tu non lo stai più trovando Ho trovato 400 all'inizio del video E non lo stai più trovando leggendari Ho trovato un guard e wild 68 Ah, scusa Accetto questo guard e wild 68 Fra Se vuoi Puoi anche givartelo all'80 Se vuoi, guarda Ho visto che... No, Marmi, non sto scherzando Mi date un per favore Un leggendario bello Per favore Per favore Cosa? Un Groudon! Ho trovato le... Ho detto Un leggendario bello Un Groudon E tu ovviamente già ce l'hai Quindi Cosa ne facciamo? Un Groudon contro un Groudon Dopo, credo No? No, madame Marmi? Eh? Eh? Marci? Sei vivo? Il temporale fuori di casa nostra ti ha intrappolato Sì, stavo a guardare Adesso vengo a spaccare i tuoi E io li ho finiti Io quindi devo venire a spaccare i tuoi E ho finito Ma come? Allora ti catturo questo al 45, questo al 46 Quello moche al 45 Ti sto catturando tutti io, Fra Prendi, prendi Ci mancherebbe Ah, perché... Ah no, c'ho un altro Lucky Block Allora, Fra, io ti dico solo che il mio Pokémon più forte non è un leggendario E tu direi, ma come? Eh... Ebbene sì Ti chiamo il 4 Ti chiamo Ok 1, 2, 3... Ah ok, sei stato vicino Ti chiamo... Mi è chiamato il 4 e ti chiamo il 3 Il 3 3, 2, 1... Vai! Ehm... No, è impossibile, Fra È attaccatemi più Siamo in waiting No, ha attaccato, Fra, ha attaccato Dopo mezz'ora è andato Vabbè, ci siamo tolti praticamente lo stesso A parte che tu sei... Uuuuuh Niente male Allora, Marmi, cosa ne pensi di questo Grodon che... Cade così sotto le griff del mio Grodon Ho tutti i Pokémon che potresti uccidere Ma, te l'ho detto, la mia squadra è veramente bella, eh Io mi sono aumentato tutto il video, praticamente Ma è veramente forte la mia squadra Ok, Gardevoir assi 63 Fra Questa devo fare, non c'è cosa fare Fra C'è una sfiga in queste cose qua C'è una sfiga, sì Ma, ehm... Vediamo un attimino Deoxys Così Deoxys Vediamo che attacchi al mio Deoxys Ha un knock-off Ah, ok Interessante Il mio Deoxys ha solo un knock-off Molto bene Ok Hai vita gialla Gardevoir al 63 Pazzesco questo Gardevoir Che sto cercando su Google Ok, allora Vediamo un attimino Io ho questo bellissimo Darkrai Che però Darkrai L'hai detto giusto Che però ha solo un quick attack Questa cosa è interessante Perché il mio Darkrai Ha solo quick attack Attacco rapido Mi chiamo Darkrai Ti pare il caso? Ti pare il caso? No! 2 PS di vita per lui 2 PS di vita 2 PS di vita E tu? Invece mi fai fuori Non sei per niente simpatico Lo sai Marci? Allora ti tiro fuori il Groudon E tu me l'hai fatto fuori Ottimo HiDragon Buongiorno Come sta? Tutto quanto bene? Fra! Fra! Diamoci una calmata Perché qua Non la stiamo gestendo Porco mio Che Pokémon È fortissimo Ho sbagliato Ho sbagliato Ok Allora vediamo un attimo Il nostro Tornadus Perché io non attacco? Oh Finalmente Madonna Oggi zero attacchi Oggi zero attacchi Ok Grazie Sei stata una persona ottima In questo esatto momento Porco 2 Cacchio Cacchio Dammi un attacco tipo drago Ok Non ce l'ho Io ce l'ho Io ce l'ho Vai così Rayquaza Che sei il più bello di tutti Però adesso siamo nel casino più totale Vediamo eh Aspetta un attimo che non riesco a leggere Che cosa fanno le mosse La mosse non la conoscevo No ho sbagliato mate Ho schiacciato a caso Cos'è sbagliato? Io non lo so cosa ho fatto Ho detto Dio cara Sì tranquillo Tanto Massimo lo taglia Eeeh La situazione qua è creepy Perché Dimmi che te lo brucio Mamma mia Ogni Non si credo Non ci credo No 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 con un attacco Quanti pokémon ti ho rimasti Un botto, tipo anche ho lunala Aprivo lunala è vero Vabbè ci sto Però io ora per sicurezza Ho sbagliato con il gardeivore Perché non lo sapevo Ho sbagliato Dimmi bro Che bello Ma chi era il tuo Pokémon più forte Scusa Il mio Pokémon È il Dragon A 72 Che ha mate Gardenwall 63 Ti ho shotata Tutta la squadra Vabbè Ragazzi Spero che questo video Si è piaciuto Ciao a tutti Ciao a tutti Buongiorno Un commento Passate la playlist Pixelmon Lucky Block Passate il cannebo Marci Da Marche è tutto Ciao Ciao